L'agroecologia e le agricolture organiche è una mostra itinerante realizzata nell'ambito del Bando Interreg Italia-Svizzera nel progetto Simbioval, progetto per lo sviluppo sinergico dell'agricoltura biologica in Valtellina e Valposchiavo. La mostra è stata realizzata dalla comunità montana Valtellina di Sondrio su progettazione della Fondazione Foianini di Studi Superiori. In questo primo pannello sono messe confronto gli ecosistemi naturali e gli agroecosistemi nella loro struttura organizzativa e nella loro funzionalità. Gli ecosistemi naturali funzionano e sono costituiti grazie a un flusso di energia, l'energia solare che li attraversa. Questa energia viene catturata dai cosiddetti organismi produttori che sono sostanzialmente gli organismi vegetali, le piante, mediante il processo di fotosintesi. Con questo processo degli elementi minerali vengono trasformati in elementi organici, in sostanza organica. Vengono create queste grosse molecole nei cui legami viene immagazzinata, conservata l'energia solare. Questa energia viene poi distribuita dalle piante, dal mondo vegetale, a tutti gli altri organismi viventi che vivono dentro gli ecosistemi. Dapprima i cosiddetti consumatori, che sono gli animali, gli erbivori, successivamente a organismi inferiori, decompositori, detritivori, che degradano queste grosse molecole organiche ricostituendo le materie minerali di partenza. Quindi l'ecosistema si conserva grazie a un flusso di energia e a questo ciclo chiuso della materia organica. L'agroecosistema conserva sostanzialmente la struttura organizzativa e il funzionamento degli ecosistemi naturali, ma con almeno quattro differenze fondamentali. La prima riguarda la sostituzione delle specie spontanee, vegetali, selvatiche, sia dei produttori che dei consumatori, con altre specie. Nel primo caso saranno le culture agrarie, nel secondo caso sono gli animali domestici. Una seconda differenza fondamentale riguarda il flusso di energia. Nell'ecosistema naturale è solo il flusso di energia solare, qui si aggiunge un altro flusso di energia che talvolta diventa preponderante rispetto alla stessa energia solare, dell'energia sussidiare, un'energia di natura tecnologica dovuta essenzialmente all'uomo, costituita sia da energia vera e propria, pensiamo ai carburanti che fanno funzionare le macchine, ma da tutto ciò che entra e che non è naturale nell'ecosistema. Quindi le macchine, le attrezzature, tutti i materiali, concimi, fertilizzanti, antiparassitari. Tutto ciò che non è naturale va a costituire questo flusso di energia sussidiaria, che più dell'energia solare rappresenta il vero regolatore degli agroecosistemi. Una terza differenza importante riguarda il ciclo della materia organica che abbiamo visto essere chiuso negli ecosistemi naturali, qui invece il ciclo viene aperto, viene aperto in due modi, anzitutto attraverso i prelievi che l'uomo fa sia tra i produttori che tra i consumatori, ed è il cibo, sono le materie prime per cui vengono costituiti i sistemi agrari. Una seconda apertura del ciclo si ha con la produzione di scarti, purtroppo l'energia tecnologica sussidiaria non ha la stessa efficienza dell'energia naturale fotosintetica, non può essere utilizzata tutta, ma si producono degli scarti, scarti di varia natura che possono poi andare ad alterare, inquinare in qualche modo l'atmosfera, l'idrosfera e anche i suoli. Una quarta differenza riguarda il livello di biodiversità. Quando trasformiamo un ecosistema naturale in un agroecosistema necessariamente perdiamo della biodiversità. Questa perdita può essere più o meno ingente a seconda del tipo di agricoltura, ma questo lo vedremo successivamente. Diciamo che la perdita di biodiversità è il prezzo che in qualche modo dobbiamo pagare, l'uomo deve pagare alla produzione di cibo. Più è elevato il flusso di energia sussidiaria, più l'agroecosistema si allontana dall'ecosistema naturale, esasperando un po' quelli che sono i suoi tratti distintivi, in particolare aumentando la produzione di cibo e materie prime, ma ahimè aumentando anche quelli che sono i limiti, i difetti dell'agroecosistema, in particolare la diminuzione della biodiversità, l'aumento degli scarti e la diminuzione dell'efficienza energetica del processo, perché l'energia sussidiaria, sappiamo, tecnologica, sappiamo avere un rendimento inferiore all'energia fotosintetica. Viceversa se il flusso rimane su livelli bassi, il sistema tende a mantenere tratti di naturalità, quindi a somigliare di più all'ecosistema naturale, questo garantisce una maggiore efficienza. In base all'intensità di questo flusso possiamo distinguere due grandi modelli di agricoltura, da una parte l'agricoltura industriale, intensiva, convenzionale, che ha un alto flusso di energia sussidiaria, dall'altra invece l'agroecologia, o meglio le varie forme di agricoltura che si riconoscono nell'agroecologia, che invece hanno un basso flusso di intensità sussidiare, quindi tendono a mantenere tratti importanti di naturalità. L'agricoltura industriale è così chiamata perché adotta i criteri organizzativi dell'industria, quindi è figlia della rivoluzione industriale, diciamo, è figlia della società dei combustibili fossili, perché avendo un alto flusso di energia sussidiaria fa un massiccio ricorso ai combustibili fossili. Contrariamente a quello che si pensa non è l'agricoltura industriale a sfamare il mondo, perché la produzione industriale va principalmente a sfamare gli animali domestici, l'allevamento e più di recente anche la produzione di agrocarburanti. L'agroecologia invece sfama più direttamente l'umanità e il basso flusso di energia sussidiaria la rende un'agricoltura sostanzialmente di tipo naturale, viene definita appunto di tipo organico. Nei grafici sotto vediamo come la popolazione umana al 70% sia nutrita ancora dall'agricoltura contadina, un'agricoltura che appunto si rifà ai criteri dell'agroecologia. La maggiore efficienza dell'agroecologia rispetto all'agricoltura industriale si manifesta ad esempio in un minor consumo di acqua, l'agricoltura contadina consuma solo il 30% del consumo globale di acqua in agricoltura, mentre il 70% va all'agricoltura industriale e consuma solo il 20% dei combustibili fossili a fronte dell'80% consumata dall'agricoltura industriale. Un altro elemento che distingue l'agricoltura industriale dall'agroecologia si rifà ai cosiddetti servizi ecosistemici. Questi servizi ecosistemici sono tutte quelle funzioni che gli ecosistemi naturali anzitutto forniscono per la vita dell'umanità. Oltre alla fornitura di materie prime, cibo, acqua eccetera, comprendono servizi di regolazione molto articolati, servizi di supporto e servizi di tipo culturale. Ebbene alcuni di questi servizi sono svolti anche dagli agroecosistemi, ma anche qui c'è questa distinzione importante perché all'aumentare del flusso di energia sussidiaria tendono a scemare questi servizi ecosistemici. Invece nell'agroecologia che si mantiene vicina come funzionamento dell'agroecosistema agli ecosistemi naturali, queste funzioni vengono meglio esplicate. Vediamo ora più in dettaglio i due modelli di agricoltura. L'agricoltura industriale nasce sostanzialmente agli inizi del secolo scorso con alcune grandi innovazioni tecnologiche nel campo del miglioramento genetico, della meccanica, della meccanizzazione e della chimica. Si diffonde tuttavia in modo massiccio a partire dagli anni sessanta grazie alla cosiddetta rivoluzione verde, cioè quel grande piano lanciato dalla FAO per affrontare il problema della fame nel mondo. In realtà la rivoluzione verde non raggiunge i risultati sperati se non in aree circoscritte, sostanzialmente per ragioni di tipo sociale, culturale, politico, ma anche per alcuni limiti intrinseci al modello di agricoltura industriale. Un primo limite è la dipendenza dai combustibili fossili. L'uso massiccio di chimica, di genetica e di meccanizzazione in queste forme di agricoltura così intensiva comportano un grande dispendio di energia che proviene principalmente dai combustibili fossili, petrolio in primo luogo. Il flusso di energia sussidiaria supera in queste agricolture il flusso di energia fotosintetica naturale. Questo fece a dire a Odium, uno dei padri dell'ecologia, che in queste forme di agricoltura è come se ci nutrissimo di petrolio. Un secondo effetto riguarda la fertilità dei suoli. Sappiamo che la fertilità dei suoli è garantita principalmente dalla presenza dell'humus, cioè questa sostanza organica molto strutturata che rende adatto il suolo ad ospitare i vegetali da un punto di vista fisico e da un punto di vista biologico e in terzo luogo anche da un punto di vista chimico. La fertilità sappiamo che è la combinazione di una componente fisica, biologica e chimica. Si stima che nel corso del ventesimo secolo i suoli agrari abbiano perso dal 30 al 75 per cento della sostanza organica e questo è un bel problema perché quando il livello di humus scende al di sotto di un certo livello i suoli desertificano, perdono totalmente la loro capacità produttiva. Un altro difetto è la bassa efficienza energetica. Abbiamo già detto che l'energia sussidiaria non ha la stessa efficienza dell'energia naturale fotosintetica ma è molto meno efficiente quindi produce più scarti. Tra questi scarti in particolare vi sono il gas serra e l'agricoltura industriale dà un grosso contributo ahimè al cambiamento climatico ed è accusata di essere tra i principali responsabili di questo problema. Tra le maggiori criticità dell'agricoltura industriale vi è senz'altro l'uso di molecole chimiche di sintesi, diservanti, antiparassitari, concimi chimici nei campi, antibiotici ed ormoni negli allevamenti, direttamente con i prodotti derivanti dalla loro degradazione vanno a contaminare l'aria, l'acqua e i suoli distruggendo biodiversità e minacciando la salute delle popolazioni. Vi è una mola enorme di studi scientifici che hanno dimostrato come l'esposizione a pesticidi possa causare molte malattie cronico-degenerative tra le più gravi come il cancro, l'Alzheimer, la SLA, il diabete, possa provocare alterazioni genetiche soprattutto nei bambini. I bambini sono particolarmente esposti già dalla fase di gravidanza e le alterazioni si possono manifestare sia a livello genetico che epigenetico e trasmettersi per molte generazioni. Un problema che sta diventando sempre più grave è l'antibiotico resistenza. Uno tra i fattori principali di questo fenomeno è senz'altro l'abuso che viene fatto di antibiotici negli allevamenti intensivi. L'uso è un uso di fatto sistematico che diventa necessario per controllare le cosiddette tecnopatie, cioè quelle malattie che sono legate a una produttività esasperata e eccessiva, agli stress che questo comporta per gli animali e al sovraffollamento. Anche l'uso della genetica comporta alcune criticità. Sappiamo che la genetica entra in agricoltura attraverso due vie. Il miglioramento genetico classico che consiste nel selezionare dei soggetti che hanno certi caratteri desiderati e riprodurli in modo da diffondere questi caratteri. La seconda via più recente è quella degli organismi geneticamente modificati, gli OGM. Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova tecnica di manipolazione genetica che è il genoma editing che consente degli interventi più mirati e più precisi. In ogni caso i prodotti di queste manipolazioni genetiche comportano dei rischi, rischi per la salute dei consumatori e rischi per l'ambiente. Questi rischi sono documentati da una vasta documentazione scientifica. Abbiamo poi due limiti, potremmo dire, di carattere sociale. Il primo è che l'agricoltura intensiva industriale è un modello di agricoltura a bassa intensità di lavoro e alto capitale tecnologico. Sappiamo che gli investimenti in tecnologia normalmente vanno a ridurre l'occupazione, quindi l'agricoltura industriale certamente occupa meno personale che non l'agricoltura tradizionale contadina, quindi non è un'agricoltura ad esempio favorevole per una nuova occupazione giovanile. Il secondo limite di tipo sociale o culturale, potremmo anche dire, è che l'agricoltura industriale scimmiotando appunto l'industria ha trasformato il contadino in un imprenditore, facendogli perdere quel legame con la terra che caratterizzava il contadino. Nell'agricoltura industriale la terra non è più quella entità sacra per certi aspetti che era nell'agricoltura tradizionale, ma diventa un fattore di produzione come qualsiasi altro fattore di produzione e il capitale diventa quindi un capitale da far fruttare per generare del profitto. Si rompe così assolutamente quel legame che invece c'era nell'agricoltura tradizionali e contadine, quel legame tra generazioni che rappresenta uno dei cardini del concetto di sostenibilità. Un ultimo difetto dell'agricoltura industriale si potrebbe definire strutturale. Puntando sulla specializzazione e la standardizzazione, l'agricoltura industriale semplifica il sistema e lo omologa. Cioè i medesimi criteri agronomici, i medesimi criteri organizzativi, ma le stesse specie, varietà, razze, ecotipi, sono coltivati o allevati in ogni contesto allo stesso modo, senza tenere conto delle diversità climatiche, pedologiche, sociali e culturali dei luoghi. Quindi si ha una sorta di banalizzazione dei paesaggi agrari, si ha soprattutto una perdita di agrobiodiversità, si ha la perdita anche di quelle conoscenze, quei saperi tradizionali e locali che hanno fatto in qualche modo la storia delle comunità rurali. La perdita dell'agrobiodiversità è forse l'elemento più preoccupante, perché mantenere alta l'agrobiodiversità, come negli ecosistemi naturali, mantenere alta la biodiversità significa conservare dei sistemi robusti, resilienti, flessibili, in grado di adattarsi ai cambiamenti. Mentre un tempo nella sua storia l'umanità si è nutrita con più di 8.000 specie vegetali, oggi poche centinaia di specie nutrono tutta l'umanità e addirittura sette specie forniscono il 75% del cibo mondiale. La stessa perdita di agrobiodiversità si è verificata anche all'interno delle specie coltivate e allevate, cioè a livello di diversità genetica. Abbiamo perso l'80-90% degli ecotipi, delle varietà, delle razze coltivate e allevate. Passando all'agroecologia occorre insitutto precisare come il termine agroecologia non identifichi solamente un modello di agricoltura, una pratica cui fanno riferimento le agricolture organiche, ma identifica anche una disciplina scientifica e un movimento. Come disciplina l'agroecologia è una storia piuttosto recente, nasce pochi decenni fa cercando di coniugare le conoscenze agronomiche dell'agronomia classica con le conoscenze dell'ecologia. In particolare l'agroecologia studia l'applicazione dei concetti e dei principi ecologici alla produzione del cibo, al sistema agroalimentare, sia a livello di campo, quindi di agroecosistema, per salire poi a livello di azienda, per arrivare poi all'intero sistema agroalimentare. Il movimento dell'agroecologia è molto diffuso soprattutto nei paesi dell'America Latina, ha delle radici ovviamente nel movimento ambientalista e ha come obiettivo di promuovere uno sviluppo rurale sostenibile nella triplice coniugazione ambientale, sociale ed economica. La mostra si occupa dell'agroecologia come pratica. Da questo punto di vista si può dire che l'agroecologia è molto antica perché è stata praticata fin dagli albori dell'agricoltura, quindi dobbiamo tornare indietro di 10.000 anni, quando le tribù del paleolitico, le tribù nomadi del paleolitico a un certo punto divennero stanziali e cominciarono a produrre direttamente il cibo, cioè si convertirono all'agricoltura e all'allevamento. Per quelle tribù fu logico applicare anche alla produzione del cibo, cioè all'agricoltura, le leggi naturali degli ecosistemi di cui avevano una profonda conoscenza vivendo essi in sostanziale armonia con la natura. Anche nel prosieguo i principi dell'agroecologia ispirarono sempre e accompagnarono lo sviluppo dell'agricoltura, certamente con qualche tradimento, l'ultimo dei quali appunto con l'industrializzazione dell'agricoltura. La pratica agroecologica segue un approccio sistemico, olistico. Al centro c'è l'attenzione per il terreno, tutto ruota attorno alla conservazione e al miglioramento della fertilità del terreno e questa attenzione al terreno si manifesta anzitutto tenendo insieme l'agricoltura e l'allevamento. Questa unione tra agricoltura e allevamento è il cardine, il centro fondamentale per poter garantire la sostenibilità all'agricoltura, conservando appunto la sostanza organica del terreno. L'approccio olistico però si osserva anche rispetto ad altri tre poli, tre nodi importanti, l'ambiente, il consumatore e la cultura e l'identità dei luoghi. Anche qui la pratica agroecologica tenta di tenere insieme tutte queste tre attenzioni, quindi grande attenzione per l'ambiente, appunto cercando di adottare quei principi ecologici che garantiscono sostenibilità agli agroecosistemi, ma grande attenzione anche alla storia, all'identità, alla cultura dei territori, cioè l'agroecologia non omologa ma cerca di valorizzare le specificità, le identità dei territori. E infine grande attenzione al consumatore, grande attenzione a offrire al consumatore un cibo sano e nutriente. Queste diverse attenzioni si fondano su alcuni principi fondamentali. anzitutto vi è il rifiuto di tecnologie che impattano sull'ambiente e sulla salute dei consumatori. Vi è poi il divieto all'uso delle molecole di sintesi e a ogni manipolazione genetica. A fronte di questi vincoli e restrizioni si cerca invece di valorizzare tutta una serie di elementi. Si cerca di mantenere un'elevata biodiversità degli agroecosistemi perché sappiamo che questo essere la condizione per dare robustezza e flessibilità agli agroecosistemi. Si punta a non sciupare le risorse, in particolare vi è grande attenzione a risparmiare, a non sprecare le risorse non rinnovabili. Si cerca di imitare i principi dei processi ecologici perché questo sappiamo essere un'altra condizione per la sostenibilità dell'agroecosistema. Si cerca di minimizzare l'energia sussidiaria che sappiamo avere una scarsa efficienza e infine si cerca di valorizzare quelle che sono le conoscenze tradizionali dei territori, le reti di scambio, i metodi partecipativi. Si cerca di promuovere, sostenere l'orgoglio di appartenenza dentro le comunità rurali, l'identità delle comunità rurali, la coesione sociale dentro le comunità rurali. Infine si cerca di operare in sinergia con tutti gli altri organismi viventi attraverso quella che viene definita un'etologia di tipo collaborativo. Nella gestione dell'agroecosistema vi sono due elementi cardine, la gestione della fertilità del suolo e il controllo delle avversità. La gestione della fertilità del suolo mira a conservare o aumentare la sostanza organica perché questa è la condizione perché un suolo sia fertile. Questo viene ricercato attraverso l'adozione di tecniche culturali particolari, gli avvicendamenti, una lavorazione minima o nessuna lavorazione del terreno, l'introduzione nelle rotazioni di colture foraggere, in particolare leguminose che oltre ad arricchire di azoto il terreno attraverso la simbiosi rizobica, hanno anche una potente azione strutturante sulla matrice suolo. Infine il sovescio che consiste nell'interramento dei residui della cultura precedente. La seconda azione che va verso una conservazione della sostanza organica è la fertilizzazione. In agroecologia la fertilizzazione è principalmente di tipo organico, quindi con i refluizotecnici o laddove carenti o mancanti attraverso delle matrici organiche di vario tipo reperibili nel territorio. Si può anche praticare una concimazione minerale utilizzando però solamente minerali primari non concimi di sintesi. Il controllo delle avversità mira a contenere l'invasione di piante infestanti, di parassiti e di malattie. Si realizza anzitutto in modo indiretto attraverso delle buone pratiche agronomiche, quelle di cui si parlava anche riguardo della gestione della fertilità del suolo. Poi ci sono ovviamente degli interventi molto potenti in questo senso che sono gli avvicendamenti perché le infestanti ad esempio tendono a seguire la cultura, cioè ogni cultura ha una sua popolazione di infestanti, quindi se io sul terreno faccio succedere culture diverse riesco a controllare l'invasione di queste malerbe. Un'altra tecnica a cui si può ricorrere è la pacciamatura, cioè il ricoprimento del terreno con matrici di tipo organico di altro tipo che impediscono la crescita di queste infestanti. Ancora le false semine che consistono nel fare preparare il terreno come se dovesse essere seminato, non seminare e lasciare crescere le erbacce e intervenire successivamente distruggendo le erbacce e con la semina effettiva. Quando queste le procedure di tipo indiretto non bastano a contenere le alversità si può ricorrere a degli interventi diretti. Questi interventi possono essere di tipo biologico, fisico, meccanico o chimico. Gli interventi di tipo biologico vengono realizzati introducendo nell'agroecosistema dei competitori naturali o anche sfruttando il fenomeno dell'allelopatia, cioè la produzione di sostanze particolari da parte di una specie che risultano tossiche per altre specie. Quindi combinando in questo modo le specie io posso controllare lo sviluppo di altre delle malerve, delle infestanti. Gli interventi di tipo fisico-meccanico prevedono l'uso dell'acqua, del fuoco, le lavorazioni, trappole e barriere a seconda delle culture e dei sistemi agrari. Infine si possono praticare anche interventi di tipo chimico, ma questi sono limitati all'uso di diserbi di tipo biochimico, quindi con prodotti naturali, utilizzo di attraenti e repellenti per i parassiti e l'utilizzo di antiparassitari contro le criptogame, ma antiparassitari naturali, mai di sintesi. Passando all'allevamento agroecologico, nel caso dei ruminanti vi sono quattro criteri di base. Il primo è una particolare attenzione al benessere degli animali. Gli animali non sono considerati semplici fornitori di cibo e materie prime per l'uomo, ma sono esseri senzienti, capaci di emozioni e sentimenti. Quindi è fondamentale il rispetto delle loro esigenze psicofisiche, tra l'altro questa è la condizione per mantenerli in salute, per evitare sofferenze e stress, tutelando l'ambiente e la qualità delle produzioni. Questa attenzione al benessere si estrinseca nella scelta della riproduzione naturale, nessuna mutilazione viene praticata agli animali, nessun utilizzo di molecole farmacologiche tossiche, utilizzo dei farmaci solo nei casi di stretta necessità. Il secondo criterio base è la valorizzazione delle razze dei biotipi locali. Razze biotipi locali sono quelli che si sono selezionati nell'ambiente, o meglio dovremmo dire che si sono selezionati e coevoluti nell'ambiente, perché l'evoluzione non è mai un fatto individuale, ma è sempre un fatto in qualche modo di comunità collettivo. Genotipi selezionati in certi ambienti sono i più adatti a valorizzare quegli ambienti, a vivere in quegli ambienti. Sono gli animali che sanno trasformare meglio, con maggiore efficienza, le risorse foraggere tradizionali, foraggi, sanno vivere meglio all'aperto, più rustici, più resistenti alle malattie di stress e soprattutto sono quelli che garantiscono anche tipicità alle produzioni. Il terzo criterio base per l'allevamento agroecologico dei ruminanti è quello di fornire delle razioni alimentari con elevato contenuto di foraggi. La natura ha prodotto i ruminanti per digerire la cellulosa, questo diciamo è il loro ruolo ecologico e così facendo gli animali ruminanti domestici rendono di fatto la cellulosa digeribile all'uomo attraverso gli alimenti, latte, carne, gli alimenti che producono. Con la rivoluzione industriale l'allevamento si è intensificato e si è industrializzato, è stata fatta una selezione molto spinta per le rese, per le rese soprattutto in latte ma anche in carne, per cui questi animali non possono più essere alimentati unicamente con dei foraggi perché non si riesce a coprire i loro fabbisogni che sono veramente elevati. Bisogna ricorrere a integrazione con alimenti concentrati, cereali, legumi, altri alimenti nobili che potrebbero essere consumati direttamente dall'uomo. Si viene così a creare una sorta di competizione per l'uso delle terre, una competizione che rispetto alla presenza ancora di quasi un miliardo di affamati sul pianeta non rappresenta certo una scelta intelligente perché nella trasformazione di un vegetale in un prodotto animale si perde grosso modo l'80-90% dell'energia, è come se buttassimo via l'80-90% del cibo. Infine il quarto criterio di base è la pratica del pascolo. Il pascolamento è la forma più naturale, semplice ed efficace per valorizzare i foraggi perché sono gli animali che direttamente prelevano il foraggio senza che l'uomo intervenga. Anche gli investimenti in termini di strutture e infrastrutture sono veramente minimali e quindi anche l'efficienza economica del pascolamento è certamente molto elevata. Oltretutto il pascolamento garantisce agli animali la vita da riaperta in ambiente sano e quindi anche rispetto al loro benessere, al mantenimento dello stato di salute rappresenta una scelta estremamente oculata e importante. Il pascolamento rappresenta anche l'elemento caratterizzante l'allevamento agroecologico nei suini e nel pollame, si tratta di pascolamento in bosco o in pascoli. Il pascolamento presenta tutta una serie di vantaggi, anzitutto rispetta di più l'etologia degli animali, quindi il comportamento naturale, l'istinto naturale degli animali. In secondo luogo riduce la dipendenza dai cereali, dai legumi come nel caso dell'allevamento dei bovini, ancora può ridurre fino ad eliminare l'uso di antibiotici e di altri presidi sanitari e infine riduce quelle forme di aggressività e di cannibalismo che sono almeno molto frequenti negli allevamenti intensivi. Questo consente di evitare tutte quelle forme di mutilazione che vengono normalmente praticate negli allevamenti intensivi. Dobbiamo guardare all'agroecologia come una sorta di contenitore nel quale confluiscono anzitutto le agricolture tradizionali contadine, ma poi anche quelle forme di agricoltura più moderna, più recenti, che possiamo raggruppare nelle agricolture organiche. Qui vediamo rappresentate le più note, le più famose di queste con i loro riferimenti o fondatori. L'agricoltura biodinamica che ha come riferimento culturale Rudolf Steiner, l'antroposofia di Rudolf Steiner e come riferimento agronomico Pfeiffer. L'agricoltura biologica che ha molti tratti in comune con l'agricoltura biodinamica che ha come padre fondatore Howard. Poi vediamo invece l'agricoltura naturale di Masanobo Fukuoka, quindi questo avviene dall'Oriente e l'agricoltura che viene definita anche del Mu, che vuol dire assenza nulla o del non fare, perché il criterio di base che affonda le radici nella filosofia, nel buddismo zen, è che sia la natura ad operare e l'uomo deve solo assecondare i processi della natura. L'agricoltura sinergica che ha come fondatrice Emilia Aselip è l'adattamento alle condizioni mediterranee, dei principi dell'agricoltura naturale di Masanobo Fukuoka e della permacoltura. La permacoltura è nata invece in Australia ad opera di Morrison e Holmgren e guarda l'agricoltura l'ecosistema come se fosse una sorta di foresta alimentare, quindi cerca di creare degli ecosistemi che producono il cibo e le materie prime per la vita, per il sostendamento di una società. Tra le agricolture organiche è l'agricoltura biologica la più diffusa e la più nota. Qui vediamo alcuni dati relativi al mercato del biologico in Europa. Nel grafico sopra vediamo l'incidenza del mercato del biologico rispetto all'intero mercato alimentare. Vediamo che si va da un 7,6 per cento per la Danimarca che è leader, si scende a meno del 2 per cento in paesi come la Croazia e la Slovenia. L'Italia da questo punto di vista non è messa bene, non è messa bene, compare un po' nel fanalino di coda. La stessa situazione emerge nel grafico sotto relativo ai consumi pro capite di alimenti e bevande biologiche. Anche qui vediamo che a fronte di paesi come la Svizzera, la Danimarca con consumi che tendono a essere molto elevati, molto significativi, l'Italia si colloca ancora un po' tra le posizioni di coda. Però l'Italia invece è leader per quanto riguarda la produzione del bio. Il 14 per cento della soperficie agraria nazionale è destinata alla coltivazione in regime biologico. Le aziende che operano in biologico sono 72 mila con un giro d'affari di 3 miliardi di euro ed occupano 300 mila addetti di cui il 60 per cento sono laureati e diplomati. Questo è un dato decisamente superiore all'agricoltura industriale, a dimostrazione di come l'agricoltura biologica sia più evoluta, più moderna rispetto all'agricoltura industriale. Infatti richiede delle conoscenze superiori perché nel biologico non si può ricorrere a quelle tecnologie come si fa nel sistema industriale che semplificano molto le procedure, la vita, le lavorazioni del sistema. L'agricoltura biologica è in costante e rapida espansione da alcuni decenni, un po' in tutti i continenti. Limitando l'osservazione al nostro paese, all'Italia, ad esempio vediamo che in un anno, dal 2014 al 2015, il numero dei produttori aumenta dell'8,1%, i trasformatori del 16% e la superficie destinata alla coltivazione bio del 7,5%. Nel grafico di destra vediamo quella che è la ripartizione del biologico in Italia tra le regioni. Quello che emerge è che il biologico è più diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, in parte anche nell'Italia centrale, è un pochino più arretrato in termini relativi nel settentrione. Al sud abbiamo anche una prevalenza di aziende di maggiori dimensioni, a dimostrazione di come il bio al sud sia più evoluto per certi aspetti e abbia anche un interesse economico maggiore rispetto alle altre regioni del nord Italia. I prodotti che provengono dall'agricoltura biologica offrono maggiori garanzie al consumatore, poiché oltre ai normali controlli che vengono effettuati su tutti i prodotti alimentari, hanno tutta una serie di altri controlli che certificano appunto la loro provenienza da un regime di coltivazione biologico. Il superamento di questi controlli consente al produttore di applicare al prodotto il marchio che certifica appunto la provenienza biologica, esiste un marchio europeo, nel caso dell'agricoltura biodinamica anche ulteriori marchi che certificano il rispetto del protocollo dell'agricoltura biodinamica. I controlli sono effettuati da degli enti certificatori individuati dal ministero, i quali effettuano almeno un controllo ogni anno per verificare se il produttore ha rispettato i criteri appunto di produzione del biologico. Il produttore ha l'obbligo di tenere dei registri aziendali in cui registra tutte le operazioni che vengono fatte nella sua azienda e che vengono appunto controllati questi registri dall'inter certificatore. Un altro obbligo è quello di inviare il piano annuale di produzione entro la fine dell'anno all'organismo di controllo. Superati i controlli l'organismo certificatore consente al produttore di applicare il codice di riconoscimento del prodotto. Il codice consente di identificare il paese di provenienza dell'alimento, l'organismo che ha certificato il rispetto del protocollo bio, identifica anche il produttore, distingue se il prodotto è fresco o trasformato e infine certifica un numero di etichetta. E' opinione comune che l'agricoltura biologica produca meno dell'agricoltura industriale. In effetti esiste una vasta documentazione scientifica che rileva grossomodo una perdita di resa nel biologico del 15, mediamente del 15-20%, tuttavia con grandi differenze tra cultura e tra ambiti in cui sono state svolte queste prove. In effetti in certe circostanze il bio può produrre effettivamente meno del convenzionale, tuttavia molto spesso le ragioni di queste minori rese sono dovute, sono altre, in particolare vi possono essere quattro ragioni. Prima ragione un utilizzo di genotipi selezionati in sistemi di agricoltura intensiva che quindi non sono adatti al regime biologico, la conversione di un'azienda al regime di bio non può limitarsi semplicemente ad altri protocolli produttivi, ma è un sistema completamente diverso e questa diversità consiste anzitutto nella coltivazione di genotipi, di varietà, di razze che sono adatte al regime bio, quindi che dovrebbero essere individuati e selezionati dentro un regime bio. Una seconda ragione è il mancato rispetto della vocazionalità dei luoghi che evidentemente è più negativo in regime biologico dove si usano meno dei supporti, degli ausili tecnologici con cui controllare il sistema, quindi incidono di più. Una terza ragione è l'applicazione di tecniche agronomiche non del tutto appropriate. Come si diceva già in precedenza il bio richiede una maggiore preparazione, una maggiore accuratezza, se non c'è questa maggiore preparazione, maggiore accuratezza è chiaro che la produzione ne risente. Infine spesso le osservazioni vengono fatte nei primi anni di conversione al regime biologico, quando i terreni risentono ancora di una scarsa fertilità dovuta a una precedente agricoltura di tipo industriale. Il confronto andrebbe fatto una volta che il sistema è a pieno regime. Esistono per altre anche delle testimonianze di produzioni in regime bio superiori o comunque non inferiori all'agricoltura intensiva. Una molto significativa è questa realizzata dal Rodan Institute, un istituto di ricerca americano che si occupa da 40 anni di agricoltura organica, di agricoltura biologica. Qui in occasione del suo trentesimo anno ha pubblicato questo report in cui ha riportato i risultati di confronti effettuati su mais, frumento e soia, quindi sulle grandi culture che sfamano l'umanità, lungo un periodo di trent'anni. Ebbene qui sotto vediamo nel caso del mais come le rese in regime biologico non siano state inferiori, anzi sono state leggermente superiori alle rese in regime convenzionale. Ma si vede anche come il guadagno degli agricoltori in regime bio sia stato quasi il triplo rispetto a quanto hanno guadagnato gli agricoltori convenzionali e gli impatti sono stati di almeno di un terzo di meno sia in termini di consumo di energia sia in termini di emissioni di CO2. L'immagine sopra di queste due zolle di terreno, regime bio e regime convenzionale, spiegano il perché di questo risultato. Queste sono immagini dopo trent'anni, quindi al termine della prova, si vede chiaramente un colore molto più intenso nel caso della zolla del terreno bio dovuto a una maggior presenza di sostanza organica. Il terreno in regime convenzionale, vedete, appare scolorito, impoverito e si intuisce anche una struttura molto meno robusta, molto meno efficace. Una domanda che viene spesso posta è se tra prodotti biologici e industriali esistono effettivamente delle differenze di qualità. Occorre però anzitutto chiarire cos'è la qualità. La qualità è un concetto complesso che ha almeno quattro componenti. Una componente nutrizionale che si riferisce all'apporto di principi nutritivi, proteine, grassi, carboidrati, eccetera. C'è una qualità funzionale che è legata alla presenza di sostanze normalmente in concentrazioni molto basse ma che hanno un'azione benefica sul nostro stato di salute. Poi c'è una qualità sensoriale che è la qualità che noi cogliamo con i nostri sensi, potremmo sintetizzarla nel piacere, quanto ci piace questo alimento, e c'è una qualità sanitaria che è legata alla presenza di eventuali sostanze che possono interferire negativamente sulla salute. Evidentemente queste sostanze dovrebbero essere assenti dagli alimenti. Bene, esistono tantissimi studi che hanno dimostrato, che dimostrano come i prodotti bio siano superiori per tutte queste quattro componenti rispetto ai prodotti dell'agricoltura industriale. Sono anche state dimostrate delle correlazioni negative tra l'incidenza del cancro e il consumo di prodotti biologici, cioè persone che consumano abitualmente prodotti bio tendono a essere maggiormente protetti rispetto a questa terribile malattia. Questo è difficile da spiegare con le analisi classiche di laboratorio. Sono stati allora messi a punto dei sistemi, delle metodologie di analisi, che potremmo definire di tipo sistemico, di tipo olistico, che guardano appunto la qualità complessiva dell'alimento che è data dall'interazione di tutte le sue componenti. Assumere delle sostanze separatamente o insieme non è la stessa cosa, perché se le assumiamo separatamente perdiamo tutte queste azioni sinergiche che si possono creare tra le varie molecole, tra i vari composti. Queste metodologie di tipo olistico possono varie, possono essere delle cristallografie, possono essere delle dinamolisi, possono essere delle cromatografie. Qui vediamo la cristallografia applicata a diversi prodotti, vino, uva, mela, riso, frumento, grano saraceno, mais, pomodoro. Le immagini sono inequivocabili, i prodotti biologici vedete creano delle strutture cristallografiche molto più complesse, più armoniose, più belle rispetto a quelle create dai prodotti convenzionali. Questo è attribuito a una superiore energia ordinatrice presente negli alimenti biologici. I prodotti biologici costano normalmente di più dei prodotti convenzionali, questo rappresenta sicuramente un ostacolo alla loro diffusione. Queste differenze di prezzo sono però giustificate da una maggiore qualità, come abbiamo visto, dei prodotti biologici e anche da un maggior impegno che richiede la loro produzione. Nella valutazione dei costi si deve tuttavia tenere conto di due fattori. Il primo è che se c'è necessità di fare delle economie è meglio farle su altro che non sul cibo, perché il cibo è ciò che interferisce direttamente col nostro benessere ed è anche fonte di piacere, di qualità per la nostra vita. Il secondo fattore è che noi quando acquistiamo i prodotti dell'agricoltura industriale non ci rendiamo conto che in realtà paghiamo un prezzo molto più alto di quello che effettivamente è scritto sul cartellino, perché ci sono tutti quei costi che noi indirettamente paghiamo legati agli effetti negativi sull'ambiente, la salute e sul paesaggio. E questi costi li paghiamo tutti. Quindi dovremmo, nei limiti del possibile, orientare i nostri consumi sul cibo biologico, sapendo che così facendo facciamo del bene a noi stessi per la nostra salute, facciamo del bene all'ambiente e facciamo del bene al paesaggio. L'agroecologia impatta decisamente meno sui sistemi sociali e sui sistemi ecologici rispetto all'agricoltura industrializzata. In una prospettiva di sostenibilità quindi tutta l'agricoltura del mondo dovrebbe convertirsi all'agroecologia. Questa conversione appare particolarmente utile nel territorio alpino, nei territori montani in genere, perché in questi territori una conversione sarebbe molto più opportuna, più urgente e più agevole. Più opportuna perché darebbe grossi benefici alla tipicità dei prodotti, al paesaggio e all'attrattiva turistica dei luoghi. Più urgente perché il territorio montano è particolarmente vulnerabile sotto il profilo idrogeologico. E infine più agevole perché gli agroecosistemi foraggeri, le praterie permanenti che caratterizzano il sistema agricolo delle montagne, è già in qualche modo un esempio di agroecologia perché questi sistemi sono già gestiti con criteri molto prossimi a quelli dell'agroecologia.